salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video se vi ricordate l'estate scorsa più o meno sera mi sembra tipo luglio una cosa del genere era uscito sul mercato un drone cinese che si acquistava su banggood che costava intorno ai 120 140 euro poi in base ai coupon che si andava ad avere ed era un drone che non era niente male per il suo prezzo che era lo z lrc sg 906 un drone che hanno recensito un sacco di youtuber io non ero tra quelli non l'avevo provato ma un drone che aveva comunque riscosso un discreto successo perché comunque il prezzo non era esageratissimo ed era un drone che era comunque bello consistente volava bene quindi un drone sicuro e il prezzo abbastanza se vogliamo accessibile il suo limite ovviamente come tutti i droni di quella fascia di prezzo era la videocamera nel senso che non essendo stabilizzata meccanicamente aveva dei grossi limiti se è vero c'è una versione in full hd o la versione in 4k ma in tutte e due le versioni il limite era sempre la stabilizzazione quindi un drone costruito bene che volava bene con funzioni di vola automatiche però il limite era appunto la qualità video e la qualità foto mentre adesso è in prenotazione su banggood non è ancora disponibile lo si può prenotare e sarà disponibile a breve la versione pro cioè lo z lrc sg 906 pro un drone che diciamo mantiene le caratteristiche tecniche della versione precedente solo che in questa versione pro appunto va a correggere e migliorare quello che era il suo diciamo punto debole o il suo tallone d'achille cioè la videocamera in questo caso verrà stabilizzata su due assi meccanicamente quindi in teoria ha un notevole salto in avanti dal punto di vista foto video e questo andrà sicuramente a dare qualcosa in più ad un drone che si volava bene concreto materiali discreti cioè un drone buono per il suo prezzo ma con dei limiti appunto di fotocamera che qua invece sembrano siano stati appunto risolti o nettamente migliorati adesso è in prenotazione quindi è scontato a 136 euro e 40 praticamente costa più o meno quello che costava la versione precedente alla sua uscita ma qua abbiamo un gimbal stabilizzato su due assi quindi con una cifra non elevata poi vi lascio il link di banggood in descrizione se volete dargli un'occhiata abbiamo un drone che ha un gimbal stabilizzato su due assi 4k che poi in realtà non è un 4k ragazzi 4k riguarda solo le foto dal punto di vista video la sua qualità massima sarà un 2k che comunque va benissimo però ovviamente loro dichiarano 4k perché fa sempre figo scrivere 4k ma se poi andiamo a vedere le caratteristiche tecniche 4k è sulle foto ma sul video abbiamo un 2k che comunque va benissimo il mavic mini è un 2k dipende come si va ad ottenere questa risoluzione nel senso che potrebbe essere un 4k per dire schifosissimo e un 2,7k fighissimo nel senso che dipende da tante cose che vanno installate appunto dal comparto tecnico video allora ritorniamo a noi quindi fotocamera da 2,7k foto in 4k poi abbiamo una stabilizzazione optical flow quindi avremo una telecamerina sotto come la versione precedente poi avremo un doppio sistema di stabilizzazione e di controllo satellitare quindi avremo sia il gps che il glonax quindi tutte e due le modalità di sistema di controllo satellitare poi avremo il barometro e la bussola poi avremo tutte le modalità di volo automatiche quindi we point l'active track comando anche con o meglio il controllo anche con i gesti quindi tutte le funzioni automatiche più conosciute avrà un tempo di volo che sarà circa di 25 minuti ovviamente da lì li mate sempre qualcosa perché non sono mai reali quindi vabbè facciamo anche un 20 minuti di volo che va più che bene per un drone che comunque che costa poco più di 130 euro avrà una connessione wifi a 5,8 GHz che gli permetterà un range di 1200 metri ok questo 1200 metri molto approssimativo perché comunque non ci devono essere interferenze e tutte queste cose però vabbè facciamo un range anche di 600-700 metri tanta roba lo stesso perché partiamo sempre da un drone che costa poco più di 130 euro il suo peso al decollo sarà di 527 grammi quindi un drone abbastanza pesante quindi non rientra nei droni sotto i 250 grammi assolutamente no poi avrà ovviamente ritorno video in tempo reale e il controller dedicato che rimane lo stesso della prima versione che comunque era un controller niente male per essere un drone economico quindi come vedete dalle immagini comunque simile al precedente con qualcosa diciamo dilimato dal punto di vista estetico e soprattutto la parte anteriore che cambia totalmente per il fatto che adesso la telecamera non è più fissa ma un gimbal stabilizzato su due assi quindi sicuramente al prezzo attuale di Banggood che vi lascio il link in descrizione di 137 euro è un drone che va tenuto d'occhio perché a questo prezzo sicuramente non si può chiedere molto di più di un drone che è comunque completo che sulla carta volerà bene perché lo faceva il precedente questo rimane praticamente uguale da quel punto di vista cioè dal comparto tecnico dal punto di vista del volo dovrebbe rimanere praticamente uguale ma con il miglioramento di quello che era il suo punto debole il suo vero tallone d'achille cioè la fotocamera quindi ragazzi questo era solo un video per portarvi questa nuova novità nel mondo dei droni che sicuramente nei droni low cost potrebbe dire la sua perché qua siamo veramente nel low cost nel vero senso della parola perché comunque 137 euro per un drone con queste caratteristiche secondo me ha il suo perché quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato questa novità lo ZLC SG906 Pro vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un buon recensione, un test tutorial, una novità, ciao! iscrivetevi al canale